benvenuto in questo video corso complimenti per averlo scaricato sono molto contento che tu abbia deciso di formarti di vedere questo corso e ti consiglio proprio di prenderti un po' di tempo per te se sei un musicista che vuole capire vuole cercare di smuovere anche un po' la sua situazione quindi capire quali sono gli errori che fa perché non decolla perché nessuno ti risponde perché cosa c'è che non va perché il tuo progetto è fermo allora ti dico prenditi questa ora che questo corso durerà e stacca via tutte le distrazioni e concentrati su questo corso perché io oggi ti rivelerò tutti i passi c'è tutta la mappa come puoi vedere qui da fare e questo lo vedremo tra pochissimo tutto quello che c'è da fare quando appunto abbiamo registrato un disco perché non c'è cosa più brutta di passare anni e anni magari a scrivere le canzoni a scrivere i pezzi a registrarli magari poi ti chiudi sei mesi in studio poi esce il disco e poi non succede niente quando esce il disco non succede niente e non è colpa del tuo disco che non è buono perché ho visto tantissimi dischi belli che non hanno avuto il giusto risalto perché di base la band autore non di quel gli autori di quel disco gli artisti la band non comunicavano bene non si promuovevano non avevano pensato prima a tutti i passi perché questo è l'errore più grande non pensare prima a quello che devi fare dopo cioè l'errore più grande proprio entrare in studio magari e dire ok adesso registriamo e dopo vediamo no assolutamente un musicista consapevole sa esattamente quello che deve fare una volta che ha registrato un disco è una volta che lo ha pubblicato e noi vedremo tutto quello che c'è da fare in maniera ordinata coordinata a livello di comunicazione di promozione e anche a livello di ricerca poi di gente seria con cui lavorare ok e quindi per lavorare con le persone serie devi arrivare ad un livello in cui sei già tu in grado un poco di costruirti il tuo pubblico proprio attraverso i social proprio attraverso la comunicazione la promozione io mi presento sono michele maraglino ed è quello che ti sto per dire l'ho fatto sulla mia pelle e ora ti racconto brevemente se non mi conosce la mia storia io nasco come cantautore pubblico diversi demo dal 2005 poi che succede nel 2010 a passo dal mandare i dischi alle case discografiche perché io sono dell'84 quando facevo le medie facevo le superiori ancora c'erano appunto le case discografiche non c'era internet bisognava avere una casa discografica alle spalle per appunto entrare in un studio di registrazione perché costavano troppo gli studio di registrazione quindi il punto d'arrivo era entrare in studio di registrazione perché se tu entravi in studio di registrazione voleva dire che avevi un'etichetta e poi avevi una promozione e ce l'avevi fatta adesso invece molto spesso i musicisti entrano anzi quasi sempre in uno studio di registrazione perché non hanno trovato nessuna nessuna strada nessuno sbocco e quindi hanno deciso di fare loro il loro disco però l'errore appunto è che non progettano quello che devono fare dopo e noi vedremo proprio in questo corso tutti i passi quindi rimani collegato togli tutte le distrazioni perché questo tempo te lo devi concedere per capire per poter poi cambiare la tua situazione ma torniamo a me ti dicevo appunto che ho cambiato ad un certo punto perché i tempi sono cambiati ho smesso di spedire le i demo che all'epoca realizzavo le cassette che realizzavo le spedivo alle case discografiche ho smesso perché nel frattempo stava cambiando tutto e era arrivato internet e quindi ho iniziato invece di spedire alle case discografiche e a sperare che una casa discografica mi salvasse mi sono salvato da solo nel senso che ho cominciato a rivolgermi direttamente al mio pubblico ed è quello che va fatto bisogna rivolgersi direttamente al pubblico e poi attraverso il pubblico che si è diciamo attratto a noi che abbiamo anche poi trasformato in fan poi possiamo arrivare alle etichette e le agenzie booking quindi io ho iniziato a mandare mail a web zin blog giornali online radio tv e piano piano ho macinato una serie di con di contatti ok e nel 2010 proprio questo mio lavoro costante ossessionato e sfociato appunto in in un in in questo ep che avevo fatto nel 2010 che riuscivo ad ottenere appunto pubblicazioni e quindi li ho scoperto di essere bravo in questo dopodiché ho aperto la mia etichetta la fame i dischi nel 2011 famedischi.com trovi tutto i nostri artisti una etichetta attiva dal 2011 abbiamo fatto un bel po di dischi ora l'ultima uscita del 2018 e poi ti spiegherò perché comunque anni incredibili e questa è questa etichetta che io ho aperto e anche ufficio stampa che è un altro delle mie attività ufficio stampa musicale perché quello che ho iniziato a fare per me poi ho iniziato a ovvero la promozione ho iniziato a farlo anche per altre band sia per l'etichetta che per band esterni dopodiché che cosa è successo io ho cominciato a insegnare ai musicisti come fare loro quindi invece di rivolgersi ad un ufficio stampa invece di promuoverli io ho iniziato ad insegnare ai musicisti a promuoversi da soli ed è nato il blog michelemaraglino.com ho scritto un libro il segreto per vivere di musica un bestseller amazon è finito tante volte tra i bestseller eccolo qua nella categoria music business ok e quindi questo è successo dopo quando anche ho iniziato a fare video su youtube che forse avrei visto su facebook in cui aiuto i musicisti ma tutto era partito appunto da questa etichetta e nel 2000 quindi era il 2010 il mio primo ep nel 2000 e 12 esce il mio primo disco vi voglio far vedere ti voglio far vedere quanta roba è uscita sul mio primo disco ma non solo a livello di stampa guarda qui trovi tutte le webs in i link di queste sono tutte recensioni interviste articoli guarda qui ci sono le interviste ma stai vedendo quanta roba tutto fatto da me le radio senza ufficio stampa mi sono autopromosso per non parlare questo è i mediocri ok il mio primo disco del 2012 che praticamente uscì è uscito anche il singolo praticamente il videoclip questo è il terzo singolo estratto lavorare gratis sul sulla repubblica su xl della repubblica era uscita anche la recensione sul fatto il fatto quotidiano il fatto quotidiano e sia ha parlato di me sia nel 2011 che nel nel 2015 con il mio secondo disco e tutti questi contatti li ho trovati io addirittura addirittura il fatto quotidiano ha parlato di me nel cartaceo sono finito anche su music club e tutta questa roba è successa praticamente fatta da me da solo tutti questi risultati sono finito anche in televisione ragazzi tv 2000 ok arrivato così perché con i miei contatti hanno risposto hanno visto l'album e hanno detto guarda c'è una puntata di una trasmissione revolution in cui parliamo anche delle tematiche di cui parli tu nelle tue canzoni verresti come ospite noi siamo andati a suonare senza ufficio stampa ma come si ottiene tutto questo ragazzi come si ottiene tutto questo perché tutto questo è importante perché che cosa bisogna fare e quando abbiamo un disco ok adesso entriamo nel vivo ti ho spiegato chi sono io un cantatore ho un etichetta ho scritto un libro un blog mi occupo di musica da tantissimi anni ok sia come musicista che come discografico che come adesso anche come formatore faccio anche il consulente ok e in questo corso ti voglio proprio insegnare come il tuo disco va utilizzato quando hai una diciamo uscita hai pubblicato il tuo disco e lo hai registrato non puoi non avere in mente tutto il percorso ok e il percorso è questo adesso lo vediamo tutti i passi che bisogna fare per promuoverlo e per comunicare bene e per ottenere anche concerti articoli adesso lo vediamo quindi mettiti comodo perché adesso entriamo nel vivo ok allora abbiamo il nostro singolo disco o ip in questo caso il disco ok abbiamo pubblicato il nostro disco lo abbiamo pubblicato attraverso un distributore digitale consideriamo che siamo da soli ok ci siamo registrati il disco non abbiamo nessuno né un'etichetta magari né soldi per un ufficio stampa che cosa facciamo magari il nostro disco è bellissimo e però rischia di perdersi di bruciarsi allora che cosa dobbiamo fare dobbiamo promuoverlo questo disco allora esistono tre tipi di di promozione ok quindi col distributore digitale pubblichiamo il nostro disco di distributore digitali ce ne sono tanti anche gratuiti ho parlato in tanti video sul mio canale youtube quindi vale vali a vedere se non sai e come fare è molto semplice pubblicare un disco quindi col distributore digitale quindi lo dobbiamo promuovere non possiamo cioè l'abbiamo pubblicato adesso che facciamo promuoviamolo e ci sono tre tipi al momento di promozione ok abbiamo la promozione sui social che non può mancare una comunicazione sui social la promozione classica che è quella del radio tv giornali blog webzin e la promozione su spotify che adesso è diciamo lo strumento più potente perché noi con spotify possiamo crescere e attraverso le playlist poi vedremo finire in appunto playlist che riguardano il nostro genere che vengono ascoltate da tantissime persone e che quindi veniamo scoperti da tantissimi potenziali fan che poi si appassiona allora partiamo dalla promozione classica blog giornali webzin radio ok tv bisogna preparare un comunicato stampa ragazzi comunicato stampa dove dare la notizia della uscita del nostro disco ok con un'immagine una breve biografia le una breve descrizione appunto di tutte le info del disco ok e e spedirlo a via mail a blog webzin radio tv come troviamo i contatti ragazzi cercate gli artisti che seguite e vedete le loro pubblicazioni vi consiglio proprio di mettere mi piace alle pagine facebook per esempio degli artisti che hanno che seguite che fanno il vostro stesso genere che hanno pubblicato un disco e da poco quindi vedrete che rilanceranno nelle loro pagine social gli articoli che escono ok quindi voi vi andate su quei siti e ogni sito avrà la sua sezione contatti e con un bel lavoro manuale ovviamente questo non l'ho detto c'è da impegnarsi da farsi il mazzo io ero veramente ossessionato quando mi capitava un una notizia appunto di una recensione di un sito che non conoscevo correvo subito prendevo l'indirizzo andavo nel sito andavo nella sezione contatti mi prendevo l'indirizzo e gli mandavolo al mio comunicato stampa ok perché bisogna mandare un comunicato stampa e i giornali le webs di i blog che sono online prevalentemente ti ti pubblicano ok e e tutto questo tutto quello che riuscite ad ottenere in termini di feedback lo dovete poi rilanciare sui social ok stesso discorso nelle radio potete trovare appunto siti delle radio attraverso i vostri contatti però se restate fino alla fine del corso io vi rivelerò appunto vi darò gli strumenti proprio già per evitarvi il grosso del lavoro vi darò i contatti per fare tutto questo quindi fino alla fine del video dovete restare fino alla fine del corso per avere diciamo la visione quindi creare un comunicato stampa con la notizia siamo i pinco pallino di uscirà il nostro disco è uscito il nostro disco ascolta e mettere tutti i link del distributore digitale ok tutti i link che il appunto distributore digitale vi avrà fornito perché poi quando carichi il tuo disco sul distributore digitale finisci negli store digitali spotify amazon youtube li mettete tutti ok e se avete anche un videoclip del singolo mettete il videoclip ok tutta questa roba e se qualcuno vi pubblica ovviamente lo rilanciate potete fare allo stesso modo agli stessi contatti mandare una richiesta di intervista ai giornali alle websine alle radio alle tv o mandare una richiesta appunto di recensione questa diciamo la promozione classica cioè far parlare del vostro disco su siti che si occupano di musica o giornali la promozione social che cos'è è facebook fare post youtube tik tok tutti i social e instagram e si divide in creazione di contenuti voi dovete pubblicare contenuti ogni giorno fotografie del delle vostre delle vostre prove o dei video ok post e foto e anche condividere i risultati ottenuti dalla promozione classica ok quindi sulle vostre pagine dovete fare questo doppio lavoro sia pubblicare appunto rilanciare se è uscito in una recensione un'intervista e sia creare anche dei post che riguardano magari la vita di tutti i giorni fare storie su instagram in cui raccontate le vostra la vostra giornata la sala prove il magari avete un concerto nella vostra città raccontate tutto quello che che accadrà invitate la gente quindi sia pubblicare contenuti video post foto e sia condividere i risultati no è uscita una recensione condivido condividetela sulle vostre su facebook fate una storia su instagram condividete un post su instagram e poi ovviamente sfruttate le sponsorizzazioni sia facebook che youtube che instagram vi permettono di sponsorizzare quindi se avete un singolo avete un videoclip sponsorizzate e anche questo vedremo dopo come fare in maniera professionale quindi tutto questo lavoro ogni giorno ok vi renderà molto più visibili ok molto più visibili ovviamente qui quando create i contenuti su facebook su instagram contenuti vostri originali e anche quando pubblicate recensioni invitate sempre a seguirvi anche negli altri social su facebook pubblicate il videoclip e quindi invitate a iscrivervi al vostro canale oppure aprite un account tiktok invitate da facebook fate un post di te iscrivetevi tutti i giorni fare un post almeno su facebook su instagram storie un video su youtube su youtube i video potete fare appunto video della vostra diciamo della vostra di un brano fatto live o ad un concerto alle sale prove oppure fare un video vlog di una data che andate cioè non pubblicate soltanto le canzoni ma cercate anche di creare altri contenuti delle cover bisogna pubblicare costantemente sui social e bisogna costantemente parallelamente fare la promozione classica questo darà molta visibilità al vostro disco non è possibile che uno registra un disco e poi tutto questo non avviene e io lo vedo ancora dischi che escono e tutto questo non avviene i musicisti non fanno tutte queste cose e come può arrivare come può potete capire se avete fatto un buon lavoro perché poi dalle recensioni dai feedback anche se vedete che la gente vi pubblica perché vi posso assicurare che ci sono tantissime ci sono tantissime webs in blog che sono appassionate e se voi avete fatto un bel disco vi pubblicano non c'è bisogno di un ufficio stampa ok non c'è bisogno di pagare c'è bisogno di rimboccarsi le maniche e lavorare stare sul computer le ore fare la comunicazione promozione sui social e promozione classica ok e tutti i giorni produrre questi contenuti sia rilanciare la promozione classica ovvero tutti tutte le recezioni le interviste i passaggi radio comunicare sempre tutto quello che avviene avete trovato una nuova data comunicatelo avete tre date fate un post su facebook su instagram fate le grafiche ma comunicate abbiamo le prime date del tour bisogna comunicare se non comunicate nessuno si accorgerà di voi è fondamentale purtroppo va così e questi strumenti ci aiutano ad emergere ed è tutto questo vi permetterà poi di trovare le date molto più facilmente perché un locale si andrà a vedere ma questi che fanno chi ha parlato di loro e quando vedranno con recensioni interviste contenuti video vedranno una band attiva beh preferiranno far suonare una band attiva ok che anche magari su una band del momento perché può capitare di essere una band del momento nel senso che è una band emergente che che si sta facendo notare e quindi ci sono i periodi appunto in cui esce il disco e tante band ricevono ottengono recensioni ok anche da sole recensioni interviste ottengono visibilità a tutto questo lavoro non dovete mai sottovalutare e ignorare spotify spotify e le playlist ragazzi bisogna crescere su spotify parallelamente e anche una crescita su spotify abbiamo raggiunto duemila ascoltatori il nostro brano è stato ascoltato da diecimila anche i risultati raggiunti a livello di ascolti e di follower su spotify vanno sempre rilanciati sui social ok ma come si cresce su spotify come si cresce su spotify attraverso le playlist è un metodo organico al 100% voi dovete cercare le playlist del vostro stesso genere musicale più o meno ok playlist che fanno il vostro stesso genere musicale potete anche cercare su spotify il vostro genere musicale indie italiano e poi fare la ricerca per playlist e lì vi uscirà tutto l'elenco delle playlist ogni playlist ci cliccate avrà il nome e cognome del curatore cercate quel nome quel cognome su facebook e al 90% troverete la stessa foto la stessa persona la aggiungete mandate un messaggio proponete la vostra canzone vi sorprenderete nello scoprire tanta gente appassionata che ascolterà e vi inserirà ok ed è fondamentale stare in playlist in tante playlist aiuterà diciamo la vostra canzone ad essere poi suggerita perché spotify l'algoritmo percepirà la vostra canzone in maniera differente perché se la vedrà presente in tante playlist penserà ok questa è una canzone che piace fammela suggerire ok e questo vi porterà una crescita di ascolti e di follower reali e tutto quello che otterrete anche siamo stati inseriti in questa playlist grazie boom posta su facebook su instagram fate storie sia su facebook che su instagram e date le notizie il segreto è comunicare ragazzi comunicare ok dopodiché questo vi porterà ad una crescita della popolarità in generale e sul web soprattutto e questo indovinate che cosa vi porterà vi aiuterà nella ricerca delle date per trovare le date da soli ok allora affrontiamo la questione booking è una questione molto delicata ragazzi non possiamo rivolgerci direttamente i booking i booking sono saturi quelli seri sono già pieni e non gli interessa un booking serio ha bisogno di band che piazza facilmente una venda come fa a piazzarsi facilmente se è popolare se ha già costruito un suo pubblico ok quindi voi tutto questo lavoro perché va fatto perché in questo modo riuscite a trovare più facilmente le date quindi voi la vostra ricerca non deve essere sul booking dovete cercare direttamente le date quindi funziona un po come le recensioni andate sulle vostre band preferite o che fanno il vostro stesso genere musicale che sono in tour e andate a vedere dove suonano e poi cercate quei locali ok cercate quei locali su facebook si su facebook e mandateli un messaggio potete anche potete anche mandargli una mail perché spesso su facebook nella sezione informazioni trovate anche una mail io vi dico che la maggior parte di tutte le date che ho trovato non so se ve le ho fatte vedere come esempio adesso ve le faccio vedere tutte le ho la maggior parte il 90 per cento le ho trovate mettendomi d'accordo su facebook con un messaggio vi faccio vedere questo è il mio primo disco i mediocri questa è la rassegna stampa tutto fatto da solo e poi trovare date vediamo qui dove dove è tour era semplicissimo con tutta quella con tutta quella mole di 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 robe che uscivano perché poi quando voi andate a proporre gli accennate che comunque hanno parlato di voi diciamo i siti principali io mettevo sono uscito su repubblica sul fatto quotidiano e lì diciamo loro ti guardano con occhi diversi vanno a vedere ti vanno ad ascoltare guardate qui c'è vasto ascoli parma roma perugia taranto grottaglie torino casale monferrato costacciaro assisi terra nuova di nuovo taranto perugia urbino giulia nova vicenza cartina in tutta italia e ho iniziato a fare questo tour chitarre voce partivo con il treno non avevo la macchina dopodiché si è creata una band perché qui a perugia io sono vivo a perugia dal 2007 e i musicisti vedevano che ero molto attivo questo può essere anche un consiglio per chi è magari da solo e vorrebbe mettere una band ma non sa come 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 coinvolgere persone che sono realmente motivate lavorate pubblicate le vostre canzoni il vostro disco fate promozione fate concerti vedrete che se sei musicisti della vostra città vi vedono che cominciate a fare concerti fuori e poi tutti i concerti vanno comunicati nuova data nuova data a torino boom va qui youtube facebook instagram va comunicato e i musicisti vedevano che io ero attivo e si sono proposti loro abbiamo creato questa band anche ho avuto due band sia nel 2015 e per il disco del 2015 che per il disco del 2012 due band diverse perché i musicisti che sono create che non ho cercato io e con cui poi sempre metà tour chitarra e voce l'altra la seconda parte con la band con monza imperia orviero forli orvieto forli in popoli ancora dappertutto bruxelles sono andato anche a suonare a bruxelles la piola libri bologna ragazzi quindi dice dicevo l'errore che fanno i musicisti che ricercano il booking ma il booking magari poi così ti ritrovi soltanto magari gente poco seria che magari ti chiede dei soldi invece tu che cosa sta succedendo ci sono problemi di rete va bene invece tu invece di cercare il fatemi controllare sembra tutto ok invece di cercare direttamente il booking cerchiamo le date andiamo a vedere chi suona le band simili a noi che fanno date e cerchiamo le date tutto questo appunto vi porta una maggiore probabilità di ottenere le date cerchiamo i locali dove la gente va a suonare li mandiamo una mail il trucco è mandare continuamente messaggi io mandavo tutti i giorni 10 messaggi il mio obiettivo era non mi facevo domande oddio non mi rispondono mai non mi interessava il mio obiettivo era mandare 10 messaggi a 10 locali nuovi ogni giorno vi assicuro ok problemi di rete non ci sono più vi assicuro che all'inizio magari non vi risponde nessuno ma se voi continuate e vi date questo questo compito ogni giorno magari vi dividete i compiti se siete una band ogni giorno cercare 10 locali nuovi che potrebbero ospitare il mio live e mandare una proposta di live tutti i giorni vedrete che se continuate per un mese due mesi tre mesi qualche data esce nel frattempo cerco le date nella mia città anche quelle cioè tutto va comunicato in maniera enfatica ok anche una data sotto casa dove una data nel paesino vicino ok via via di post su facebook poi anche dopo la data pubblicate video pubblicate testimonianze live appunto canzoni registrate magari vi fate registrare due tre canzoni le pubblicate anche due tre concerti fatti nella vostra zona devono sembrare agli occhi esterni in tutti i social devono sembrare che cavolo questi hanno pubblicato un disco stanno facendo che sta piacendo bisogna su gesto su gestionare l'audience i vostri fan bisogna su gestionarli che perché bisogna essere percepiti non come del degli sfigati ma come appunto vend case una band che si sa muovere che si sa promuovere che che sta ottenendo risultati perché c'è gente che sta parlando che ci sono recensioni articoli interviste che vengono pubblicate ci sono concerti quindi la percezione è cavolo questi hanno fatto un disco lo hanno pubblicato e e ora stanno suonando in tour e ora suonano e quindi a tutti gli effetti siete una band che fa musica con la propria con i propri brani originali e in più la promozione di spotify ok quindi quando uno ha un disco deve fare tutto questo lavoro sui social e sulla sul web promozione classica e su spotify e con tutti i risultati con tutta la comunicazione parallelamente mandare richieste per i locali ok e poi da cosa nasce cosa perché poi dobbiamo dirlo il lavoro grosso si fa all'inizio perché se tu un primo disco lo pubblichi ok e ti fa il mazzo magari perché ti veramente ogni giorno mandi messaggi cerchi però magari ti fai 10 concerti fuori dalla tua città e poi hai cinque concerti nel tuo territorio hai fatto 15 concerti e magari ti sei ammazzato per trovarli però una volta che arrivi lì se fai una buona performance se suoni bene ti comporti bene sei preciso puntuale ti metti d'accordo col fonico sei diligente magari chiedi bene tutte le condizioni tecniche eccetera eccetera fai un bel live quelli quando hai un disco nuovo ti richiamano se non fai cagate se non fai cagare anche ti richiamano quindi l'anno successivo parti già da 15 date ne devi trovare altre 10 e dopo tre anni hai 30 40 date che ti fai da solo e la gente dice ma questi come cavolo fanno senza booking e poi viene il booking a bussare alla tua porta ok tutto questo lavoro con la pubblicazione di un disco lo stesso disco che magari hai pubblicato perché se stai guardando questo video forse questo corso se hai scaricato questo corso è perché qualcosa è andato a storto magari quello stesso disco se tu avessi saputo appunto avessi saputo avessi avuto questa mappa fra le tue mani forse sarebbe andata diversamente e nei prossimi nelle prossime ore non vi preoccupate il pdf con questa con questa mappa vi arriverà via mail che io vi dico stampatevela e mettetevela fate una gigantografia mettetevela nella sala prove quando state registrando un disco quindi mentre lo registrate dovete già sapere e fare diciamo una scaletta lo facciamo uscire il facciamo uscire il primo singolo l'uno novembre forse facciamo il 5 novembre ok dopodiché dopo due settimane esce il disco quindi vai sul distributore digitale magari ti imposti l'uscita del disco il 20 novembre ok boom inizi qualche giorno prima a raccogliere cioè no qualche giorno prima inizi a raccogliere subito contatti indirizzi mail a cui mandare il tuo comunicato stampa e il giorno dell'uscita capisci che cambia tutto è tutto coordinato il giorno dell'uscita mandi il comunicato stampa poi ti cerchi su google vedi chi lo ha pubblicato e lo rilanci cioè un conto è una pagina facebook immaginiamoci che il giorno dell'uscita pubblica magari il link di spotify e muore lì un conto è boom è uscito il nostro disco questi sono i link per ascoltarli dopo un'ora anche il sito x y non parla di noi dopo tre ore un'altra notizia un altro sito che riportato la notizia voi la ricondividete capite che che percezione c'è boom ottenete un'intervista dopo due giorni viene pubblicata magari dopo una settimana la pubblicate rilanciate tutti tutti i link capite che è diverso cioè è un lavoro che per un mese che dico un mese per sei mesi un anno gli permette di essere sulla cresta del dell'onda magari è sbagliato come termine però essere avere l'attenzione del vostro pubblico perché o per una pubblicazione o per un concerto per un posto per un video che avete creato divertente su youtube o per una cover o per una versione particolare di un vostro brano per un singolo nuovo un inedito qualsiasi cosa voi dovete produrre contenuti sia social sia rilanciare quello che ottenete dalla promozione classica e sia su spotify e poi cercare le varie date ovviamente questo e bisogna averlo in mente quindi organizzarsi organizzare appunto le varie date io ho per ogni area di questa mappa ovviamente ho approfondito tutto sia qui la promozione social sia a partire dalla pubblicazione come pubblicare un disco come pubblicare come scegliere il distributore digitale come poi quando abbiamo registrato il disco quando abbiamo registrato il disco e lo pubblichiamo e lo programmiamo su spotify proporre il nostro brano alle playlist editoriali perché spotify ha anche delle sue playlist e quando pubblichi il e dà la possibilità a canzoni che ancora devono uscire di essere proposte quindi quando voi caricate il disco sul distributore con il distributore digitale in quel momento potete attraverso spotify for artist potete proporre la vostra canzone alle playlist editoriali essere in una playlist editoriale vi può veramente svoltare che cos'è spotify for artist se non lo sapete è uno strumento appunto che vi permette di vedere tutti i dati statistici delle vostre canzoni quanti ascolti da dove vi ascoltano chi vi ascolta se uomo donna tutte le statistiche allora capite che c'è tanto lavoro da fare però dicevo ho creato per ogni area un approfondimento quindi sia per come appunto pubblicare un disco in maniera corretta ho fatto un corso il musicista consapevole in cui appunto insegno proprio come anche fare le sponsorizzazioni su youtube su facebook su instagram in maniera corretta una sponsorizzazione fatta bene vi può far arrivare a una marea di gente che non avreste mai raggiunto neanche con 200 date e voi se sapete utilizzare questi strumenti in maniera professionale in maniera intelligente senza fare promuovi il post ma con gestore gestore inserzioni fare pubblicità nelle storie voi riuscite a raggiungere tantissima gente e il musicista consapevole appunto parla tutto di questo 30 video lezioni 10 video lezioni omaggio del corso music go i pdf del materiale didattico il mio libro il segreto per vivere di musica ora vabbè adesso c'è un'offerta ma io ho un'offerta ancora migliore per voi perché ho ho radunato tutti i corsi che ho realizzato che vi possono aiutare in tutte le aree quindi quest'area per la promozione social e la pubblicazione del disco tutta l'area della promozione classica quindi come scrivere un comunicato stampa come scriverlo al meglio come scrivere un e mail per che sia efficace che vi faccia pubblicare la notizia come organizzare l'uscita di un singolo come creare una esclusiva su un su un sito ok come raggiungere siti grossi come raggiunto io fare un'esclusiva su rockerilla su blow up tutto questo in questa fase ho creato un corso per auto promuoversi in maniera classica e poi ho creato anche un corso per crescere e triplicare ascolti e follower con le playlist dove c'è anche tutto un tutorial su spotify core artist quindi io tutte le aree di questa mappa le ho coperte con tre corsi che ho messo tutti insieme in un'offerta incredibile per voi che avete deciso di diciamo voler cambiare la vostra situazione tu che stai guardando questo corso vuoi cambiare se sei qui è perché non funziona tutto quello che hai fatto finora non ha funzionato quindi il corso il musicista consapevole ti spiega perché bisogna essere musicisti consapevoli lezione guidata passo passo su come inserire la propria musica negli store digitali poi tutta la questione legata a soundry foa si ha e ti spiega tutto come riscuotere i diritti connessi alla copia privata che cosa sono se non lo sai come comportarsi con le edizioni musicali editore si editore no come creare grafiche professionali c'è tantissima roba come sfruttare far crescere il canale youtube con il content id come gestire il profilo spotify richiedere l'inserimento nelle playlist ufficiali e tutto questo è stato fatto da me mentre lo facevo ad un mio singolo mio singolo che ha raggiunto il mio canale spotify sta crescendo proprio grazie al lavoro il singolo in questione era proprio l'ultimo che ho pubblicato tra il dire il fare ho registrato tutte le operazioni adesso 9 mila e 52 ascoltatori mensili ma stanno crescendo il brano a 24 mila e 800 ascolti tutto fatto così in maniera organica con le playlist e la promozione è chiaro questo corso soltanto è una bomba come trovare le date c'è proprio tutti i consigli e trucchi fatti da me è una lezione lunghissima e c'è anche come promuovere un video un singolo con il metodo grassico come sponsorizzare un video su youtube come sponsorizzarlo su facebook come caricare correttamente un video su youtube tutti i tag ragazzi c'è talmente tanta roba da conoscere che ovviamente un corso su come non bruciarsi un disco non avrebbe potuto esaurirsi non avrei potuto darvi tutta questa roba in maniera gratuita perché veramente la 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 roba è tanta però già avere la mappa di quello che bisogna fare e sapere passo passo come sfruttare il proprio disco e come non bruciarlo e come farlo diventare una macchina tira fan già avere la visione di insieme molto importante per chi magari già smanetta con i social con la promozione magari è bravo e tutto già solo questo corso solo questa mappa che vi ripeto il pdf arriverà vi arriverà fra poche poco tempo qualche ora nella vostra casella email lo potete scaricare e ve lo dovete stampare questo pdf con tutta questa mappa già solo questo vi può aiutare per tutti quelli che non che brancolano nel buio e vogliono imparare tutte queste cose sia la promozione sia come pubblicare un disco con un distributore digitale sia come sfruttare i social con le sponsorizzazioni come caricare un video su youtube in maniera corretta inserendo i tag e rendendolo quindi il video molto più visibile come chiedere una recensione per tutta questa parte c'è il mio corso sull'autopromozione eccolo qua il video corso di promozione per la sopravvivenza musicale anche questo troverete nell'offerta che adesso vi vado a presentare ci sono 17 video lezioni anche qui il mio libro il materiale didattico con gli esempi cioè esempio di come si scrive un comunicato stampa sull'uscita di un video esempio di come si scrive un comunicato stampa sull'uscita di un disco esempio di come si scrive una richiesta di pubblicazione di un comunicato stampa c'è tutto qua spiegato passo passo tutta questa parte di promozione classica per raggiungere avere pubblicazioni sui blog web in radio tv in modo poi da rilanciare sui social questo corso è una bomba esempio di come si scrive una mail di richiesta di anteprima esclusiva video sono tutti esempi reali fatti da me mentre io appunto lavoravo ai miei dischi al mio disco mi promuovevo e tutto sono tutti o mi promuovevo o promuovevo altre band perché io poi ho lavorato con tantissime band ho promosso tantissime band che hanno raggiunto tutti questi risultati qui ci sono solo alcune band nella sezione lf di press ok imparare tutto tutte queste cose organizzare archivare sfruttare contatti l'importanza della newsletter come trovare date da soli e spazi personale in giro come proporsi al meglio i locali come caricare e vendere online la nostra musica in tutto il mondo distributore digitale con due video di aggiornamento capire il lavoro di un'etichetta indipendente come proporsi al meglio quando ha senso contattarne una e come riconoscere chi è serio quindi il musicista il corso il musicista consapevole per la prima parte diciamo per questa parte il corso per autopromuoversi per la promozione classica e poi c'è il mio corso che ho dimenticato di preparare se noi andiamo su michele malalino corsi spotify music è un pdf di 60 pagine che ti spiega come trovare i curatori delle playlist che ti fanno crescere non solo ma nel pdf troverai anche il prezioso elenco ufficiale link diretti con i contatti dei curatori di 50 playlist italiane indipendenti più seguite nome cognome vedete e trovate il nome il cognome il link il profilo facebook a cui con un click potete mandare un messaggio e farvi crescere vedete 60 pagine diviso in cinque moduli il video tutorial su spotify for artists in cui parerai come inserire gratuitamente la tua musica su spotify analizzare i dati gestire migliorare il tuo account ragazzi e tutti questi tre corsi sono veramente una roba potentissima che vi possono svoltare e ho creato un'offerta veramente incredibile che la racchiude che veramente vi viene incontro a livello di prezzo perché considerate che il musicista consapevole i miei corsi costano su tranne questo il pdf il corso in pdf costa 97 euro di solito e adesso in offerta a 37 euro questo sulla il videocorso sulla promozione classica quindi videocorso per l'autopromozione per la sopravvivenza musicale costa 197 euro il musicista consapevole al momento è in promozione a 97 euro ma io ho messo aggiunto a tutto questo i contatti che vi servono così vi evitate tutto il lavoro di ricerca sia delle webzine delle radio delle tv o delle etichette a cui mandare poi una volta che avete raggiunto i vostri risultati avete raggiunto tante pubblicazioni tante recensioni tante date quello è il momento in cui magari dopo un anno è uscito il disco magari state lavorando al secondo disco in cui contattare un'etichetta ma non contattarla per dire salvami aiutami solo per informarla della vostra esistenza che è che è praticamente una mail completamente diversa c'è una percezione da parte dell'etichetta completamente diversa se voi gli scrivete siamo la band xy si temo lavorando al nostro secondo disco il nostro primo disco ha ottenuto una marea di pubblicazioni centinaia di articoli sono uscite e recensioni positivissime abbiamo suonato in 100 100 date o 50 date in tutta italia poi magari potete citare quelle più importanti se avete fatto delle aperture adesso stiamo lavorando al nostro nuovo disco vi lasciamo il link per ascoltare i provini ok questa è una mail completamente diversa che chi sta dall'altra parte vi ascolta perché dice cavolo questi non stanno con le mani in mano hanno fatto qualcosa hanno fatto un primo disco si sono prodotti da soli lo hanno pubblicato da soli sono riusciti ad arrivare da soli in importanti siti giornali web e tutti questi contatti io ve li ho messi e adesso vi faccio vedere l'offerta di cui parlo è l'accademia del musicista consapevole tutte le tecniche e i contatti per pubblicarti e promuoverti e io ho messo tutto questo in offerta a soli 197 euro più iva e ci sono ovviamente i corsi i tre corsi il musicista consapevole il video corso sull'autopromozione per la sopravvivenza musicale e il corso completo su come crescere su spotify con i 50 contatti diretti di curatori playlist poi c'è un bonus c'è il corso completo music go che c'è che c'è già nel nel anche nel nel musicista consapevole che un corso molto importante sulla strategia appunto si ricollega a quello che stavo dicendo come poi attirare un'etichetta e un booking ve lo faccio vedere è un corso che appunto ti insegna la strategia molto importante questo è compreso nei 197 euro ma per voi c'è un'offerta ancora più bassa e che non potete veramente di più non posso fare ragazzi vi ho la mappa e adesso vi do anche un sacco di tre corsi quattro corsi con questo il music go il corso che insegna passo passo come creare la tua opportunità migliore anche questo lo trovate all'interno dell'accademia del musicista consapevole e poi ecco qua i pdf importantissimi pdf con i contatti di oltre 60 agenzie booking a cui scrivere pdf con 130 mail di etichette discografiche pdf con 140 mail contatti diretti di festival e live ci sono già i locali a cui dover poter scrivere senza dover ricercare i pdf dei contatti dei migliori uffici stampa italiani se vi volete se vi volete appoggiare ad un ufficio stampa trovate quelli migliori così non prendete fregature e pdf con 200 mail contatti diretti aggiornati e verificati di webs in blog radio e testate giornalistiche specializzate a cui mandare le vostre richieste di recensione le vostre comunicati stampa in più c'è il corso su come scrivere il comunicato stampa come chiedere al meglio come autopromuoversi e in più c'è il corso il musicista consapevole dov'è musicista consapevole che ti insegna come pubblicarti in maniera professionale con il distributore quale distributore scegliere come proporre i tuoi brani alle playlist di spotify oltre nove ore di corso e ti spiega poi come promuoverti con youtube le sponsorizzazioni con facebook con instagram ragazzi è una roba completissima poi c'è il corso su spotify spotify music go con dentro i contatti delle playlist ok quindi ricapitolando l'accademia del musicista consapevole corso completo il musicista consapevole corso completo sull'autopromozione corso completo su come crescere su spotify tutto quello che abbiamo visto in queste tre aree promozione social promozione classica e promozione spotify spiegata passo passo cioè voi prendete prendete questa offerta e avete il vostro disco lo pubblicate seguite passo passo tutto quello che c'è nei corsi imparate a promuovervi e imparate a farvi notare imparate proprio anche a promuovervi voi nella maniera classica e poi a utilizzare in maniera corretta sui social a rilanciare tutti i vostri contenuti a crescere su spotify avete già i contatti diretti poi sia per le webs in le radio il blog sia per spotify i curatori delle playlist avete tutti i contatti quattro video corsi io avevo creato questa offerta a 197 ma per voi c'è un ulteriore sconto di 50 euro quindi prenderete tutto questo a 147 euro con il il codice sconto il codice promozionale da inserire qui a ad mc lancio adesso è valido e vi farà vedete vi farà prezzare tutto tutto questo soltanto a soltanto 147 euro io ho messo soltanto ho attivato soltanto 20 codici promozionali quindi se siete interessati se volete dare una svolta al vostro al vostro al vostro disco se avete un disco state registrando un disco non lo volete bruciare volete fare tutto come si deve imparare a a coprire tutte le aree della della promozione sia social che di un disco spotify se volete imparare anche a poi trovare le date perché nel musicista consapevole anche nel corso c'è tutta una parte su come trovare le date su come promuoversi su come scrivere al meglio ai locali per ottenere una data imparate a promuovervi voi prendete questi 147 con 147 euro prendete questa accademia ma dovete dovete farlo subito se no perché hanno scaricato veramente il corso il corso è stato scaricato da tantissime da tantissimi quindi tantissima gente l'ha visto e potreste potreste non riuscire a prenderlo ok quindi inserite il codice admc lancio lo prendete a 147 euro vi portate trovate il link non ve l'ho detto trovate il link sotto qui sotto il video c'è il link per poterlo acquistare prendetelo subito vi portate a casa tre tre corsi più un bonus vi portate a casa tutti i contatti che vi servono per iniziare a promuovervi da subito seguendo le lezioni e avendo già i contatti quindi vi veramente vi risparmiate un sacco di tempo quindi andate nel link qua sotto agite subito se avete un disco non lo volete bruciare con 147 euro lo avete tutto in mano per promuoverlo per comunicare in maniera concisa in maniera coordinata tutto quello che viene pubblicato tutti gli obiettivi raggiunti tutti appunto le i traguardi raggiunti anche a livello di pubblicazione nelle playlist di articoli che sono usciti interviste passaggi radio tutto va pubblicato nei social e poi le sponsorizzazioni vi permettono di arrivare a nuovi potenziali nuovi fan e quindi trovate anche tutte le lezioni su come promuoversi su come creare una campagna di promozionale su youtube su facebook su ist è spiegato tutto ragazzi tutto e in più ci sono i contatti delle webzine delle etichette degli uffici stampa dei booking italiani tutto questo a 147 euro agite in fretta perché ripeto sono entrati tantissimi tantissimi hanno scaricato questo corso e lo hanno visto quindi andate sul link qui sotto cliccate su lo voglio inserite il codice per avere un ulteriore sconto fatelo subito a dmc a dmc lancio non rischiate di perdere anche questa di perdere questo sconto e di poi dover pagare 197 euro che comunque un buon prezzo perché in totale per come sono adesso prezzati i corsi per come costano le offerte che ci sono tutto questo verrebbe a costare 431 euro e voi non lo e voi lo potete avere non a 197 ma a 147 euro ulteriore sconto quindi andate nel link qui sotto e prendete subito l'accademia del musicista consapevole perché poi ci sono anche i gruppi c'è il gruppo del gruppo privato di tutti gli studenti del corso il musicista consapevole scusate che è praticamente il corso il musicista consapevole c'è il gruppo facebook dove ci sono tutti gli studenti vedete insieme alle lezioni riceverai l'accesso al gruppo privato facebook riservato a tutti gli studenti dove io ti seguirò ok voi comprate l'accademia nel nel corso il musicista consapevole trovate il link del gruppo segreto fate richiesta e lì potete fare tutte le domande che volete potete farmi tutte le domande che volevi che volete io vi rispondo e vi rispondono anche gli altri studenti ci sono più di 100 studenti che cosa state aspettando l'accademia del musicista consapevole cliccate qui sotto ed entrate subito avete tre corsi con oltre 65 video lezioni totali 5 pdf con i migliori contatti attivi e verificati di etichette agenzie booking uffici stampa web blog radio locali live club festival curatori di playlist spotify un video corso bonus tutto questo dal valore di 431 euro è in offerta di solito a 197 con il codice admc lancio lo potete avere a dmc lancio lo potete avere a 147 euro ancora ci sono ci sono ancora posti agite subito cliccate qui sotto entrate nel gruppo facebook privato con tutti gli studenti dove vi posso aiutare in tutta in tutta questa fase se avete dubbi dopo aver visto le lezioni vi posso ancora seguire da vicino quindi ragazzi vi aspetto dall'altra parte entrate non perdete questa occasione 147 euro e è veramente un prezzo basso e siete in grado appunto di non di valorizzare il vostro disco di non bruciarlo ma di farlo diventare una macchina a tira fan grazie per aver visto questo corso spero di esservi stati utili trovate il link sotto per acquistare l'accademia se volete approfondire tutte queste aree e spero di vederci dall'altra parte da michele maraglino è tutto ciao 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 ciao